45. Swan e Josh stavano seguendo le rotaie attraverso la tempesta di polvere del Nebraska da tre giorni, quando trovarono il treno distrutto. Non lo videro fino a quando non lo ebbero quasi raggiunto, e poi eccolo lì, vagoni disseminati ovunque e alcuni addirittura accatastati l'uno sull'altro. La maggior parte dei vagoni era sfasciata, tranne quello di coda e un paio di vagoni merci. Swan scese da mulo e seguì Josh, mentre lui camminava con cautela sui rottami. «Sta attenta ai chiodi!» l'ammonì lui, e lei annui. Killer era diventato del colore del gesso a causa di tutta quella polvere, e il cane precedeva Josh, annusando con circospezione le assi scheggiate sotto le sue zampe. L'uomo si fermò, riparandosi gli occhi dalla polvere con una mano, e guardò la fiancata di uno dei vagoni merci. La tempesta aveva quasi cancellato del tutto la vernice, ma Josh riuscì a individuare un panorama sbiadito di pagliacci, leoni e tre anelli sotto un tendone da circo. C'era scritto con lettere rosse decorate, Rydel Circus Incorporated. «È il treno di un circo», disse a Swan. «Probabilmente stavano andando da qualche parte per esibirsi quando è stato spazzato via dai binari», indicò l'ultimo vagone. «Vediamo cosa riusciamo a trovare». Nelle tre notti precedenti avevano dormito in fienili e fattorie deserte, e una volta le rotaie li avevano condotti alla periferia di una cittadina di dimensioni modeste, ma il vento soffiava un tale odore di decomposizione da essa, che non osarono entrarvi. Avevano aggirato la cittadina, ritrovando i binari sull'altro lato, e avevano continuato a viaggiare nelle pianure aperte. La porta dell'ultimo vagone non era chiusa a chiave. Era buio all'interno, ma almeno era un riparo. Josh pensò che sia il cavallo che il cane erano in grado di badare a se stessi, ed entrò. Swan lo seguì, chiudendosi la porta alle spalle. Josh si scontrò con una piccola scrivania, facendo tintinnare boccette e vasi. Più vi si addentrava e più l'aria era calda, e intravide la sagoma di una branda alla sua destra. Le sue dita tastarono e toccarono del metallo caldo. Una stufa indipendente, inghisa. «Qualcuno è stato qui», disse, «e non se n'è andato neanche da molto». Trovò la griglia e l'aprì. All'interno alcuni pezzi di carbone erano bruciati fino a diventare cenere, e una braccia splendeva come un occhio di tigre. Continuò a spostarsi a tentoni nel vagone, quasi inciampando su un mucchio di coperte in un angolo, e tornò alla scrivania. I suoi occhi si stavano abituando al debole bagliore giallo che entrava dalle finestre sporche del vagone e scoprì una candela consumata a metà e incollata con la cera su un piattino. Accanto a essa c'era una scatola di fiammiferi da cucina. Ne strisciò uno, accese lo stoppino della candela e la luce si diffuse all'interno. Suon vide quelli che sembravano gessetti e rossetti sulla scrivania. Su un manichino c'era una parrucca di capelli, rossi e ricci. Davanti alla sedia pieghevole di metallo della scrivania c'era una scatola di legno, grande all'incirca quanto una scatola di scarpe, e decorata con piccole lucertole incise in modo intricato. I loro occhi minuscoli erano fatti di vetri sfaccettati e scintillavano alla luce della candela. Vicino alla branda Josh trovò un sacco aperto di cibo per cani Gravy Train e una raffa di plastica che imise uno sciacquio quando la toccò con il piede. Suon si avvicinò alla stufa. Sull'attaccapanni da parete c'erano appesi abiti sgargianti con lustrini, bottoni sovradimensionati e baveri molli. C'era una pila di giornali, schegge di legno e pezzi di carbone pronti per il fuoco. Guardò verso l'angolo più lontano, dove c'era un mucchio di coperte. solo che c'era anche qualcos'altro da quella parte. Qualcosa coperta solo a metà dalle coperte. Josh? La bambina indicò la cosa. Quello che è? Lui si avvicinò con la candela. La luce cadde sul sorriso rigido del volto di un pagliaccio. All'inizio Josh si spaventò, ma poi si rese conto di cosa fosse. Un pupazzo. Un pupazzo a grandezza naturale. La cosa era in posizione seduta, con il cerone in faccia e delle labbra di colore rosso acceso. Sulla sua testa c'era una parrucca verde e le palpebre erano chiuse. Josh si chinò in avanti e toccò la spalla del pupazzo. Il suo cuore fece un salto. Toccò con cautela la guancia della cosa e strofinò sul cerone. Al di sotto c'era della pelle giallastra. Il cadavere era freddo e rigido, ed era morto da almeno due o tre giorni. Dietro di loro, la porta del vagone si aprì all'improvviso, lasciando entrare un vortice di polvere. Josh si voltò di scatto e si mise davanti a suon per ripararla da chiunque o qualsiasi cosa stesse entrando. Vide una figura in piedi sulla porta, ma la polvere negli occhi lo accecava. La figura esitò. In una mano teneva una pala. Ci fu un silenzio lungo e teso. E poi l'uomo sulla porta disse «Ciao», con un pesante accento dell'ovest. «Eda tanto che siete qui», tirò la porta, chiudendo fuori la tempesta. Josh lo osservò all'erta, mentre l'uomo attraversava il vagone con gli stivali da cowboy che battevano pesanti sul pavimento di assi e appoggiò la pala contro una parete. Poi l'uomo si slegò una bandana dal naso e dalla bocca. «Allora, voi due parlate inglese o dovrò parlare solo io?» Attesi per qualche secondo. Poi rispose a se stesso con voce acuta e ironica. «Sì, signore, certamente parliamo inglese, ma i nostri occhi ci stanno per saltare fuori dalla testa, e se agitiamo le nostre lingue quelle ci voleranno via dalla bocca come uova fritte». «Certo che sappiamo parlare», replicò Josh. «È solo che ci hai colti di sorpresa». «Soppongo di sì, ma l'ultima volta che sono uscito da quella porta l'eroe era da solo, per cui anch'io sono un po' sorpreso». Si tolse il cappello da cowboy e lo sbatté contro una coscia coperta di jeans. La polvere volò in aria. «Quello è Leroy», indicò il pagliaccio nell'angolo. «Leroy Sutterwaite. È morto un paio di notti fa, ed era l'ultimo degli altri. Ero fuori a scavare una fossa per lui». «L'ultimo degli altri», chiese Josh immediatamente. «Sì, l'ultimo della gente del circo. Uno dei migliori pagliacci che avreste mai potuto vedere. Amico, avrebbe voluto far sorridere anche un sasso». Sospirò e fece spallucce. «Beh, è finita adesso. Lui era l'ultimo. Tranne me, intendo». Josh si avvicinò all'uomo e sporse la candela e il piattino per illuminargli il volto. L'uomo era magro e smilzo. Il suo volto, trascurato e brizzolato, era lungo e stretto, come se fosse stato pressato in una morsa. Aveva capelli ricci castano chiaro che gli ricadevano sull'alta fronte quasi fino alle sopracciglia, sotto le quali i suoi occhi erano grandi e acquosi. Di una sfumatura tra il nocciola e il topazio. Il suo naso era lungo e sottile, coordinato al resto della sua figura. Ma era la bocca il pezzo forte della sua faccia. Le labbra erano piaghe di carne, spesse e gommose, disegnate per fare smorfie e ghigni miracolosi. Josh non vedeva un paio di labbra simili da quando gli era stato servito un persico trota in un ristorante in Georgia. L'uomo indossava una giacca di jeans impolverata, visibilmente usata e strausata, una camicia di flanella blu e dei jeans. I suoi occhi vivaci ed espressivi si mossero da Josh a Swan. Si soffermarono alcuni secondi e poi tornarono su Josh. «Mi chiamo Rusty Weathers», disse. «Ora che diavolo siete voi? E come ci siete arrivati da queste parti?» «Io mi chiamo Josh Hutchins e questo è Swan Prescott. Non mangiamo e beviamo niente da tre giorni. Puoi aiutarci?» Rusty Weathers annui verso la caraffa di plastica. «Servitevi pure. È acqua di un ruscello a un paio di centinaia di metri dai binari. Non so quanto sia pulita, ma la sto bevendo da circa...» Si accigliò, andò vicino alla parete e tastò in cerca delle tacche che aveva inciso con il suo temperino. Vi fece scorrere sopra le dita. «Quarantuno giorni, più o meno». Josh aprì la caraffa, annusò l'acqua e beve un sorso di prova. L'acqua aveva un sapore oleoso, ma per il resto andava bene. Beve di nuovo e poi passò la caraffa a Swan. «Il solo cibo che ho è quel gravy train», disse Rusty. Un tizio e sua moglie avevano un numero con i cani. Facevano saltare barboncini attraverso dei cerchi e cose così. Infilò il cappello sulla parrucca rossa, tirò a sé la sedia pieghevole, la voltò e si sedette appoggiando le braccia incrociate sulla spalliera. «È stato un momentaccio, ve lo posso dire. Il treno si stava muovendo alla perfezione l'attimo prima e quello dopo il cielo assomigliava all'interno di una galleria di miniera e il vento ha iniziato a strappare via i vagoni dai binari. Abbiamo dei tornado a casa, in Oklahoma, ma che io sia dannato se quello non era il nonno di tutti loro!» Scosse la testa come per alleggerire i ricordi. «Avete delle sigarette? No, mi dispiace. Una maledizione. Potrei mangiare un cartone di sigarette in questo istante!» Strinse gli occhi, esaminando in silenzio sia Josh che Swan. «Sembrate due che sono stati calpestati da qualche dozzina di Tory Brahman. Siete feriti? Non più», disse Josh. «Che sta succedendo là fuori? Su questi binari non passa un altro treno da 41 giorni. La polvere continua a soffiare. Che sta succedendo?» «Una guerra nucleare. Credo che le bombe siano cadute più o meno ovunque. Probabilmente hanno colpito prima le città. Da quello che abbiamo visto finora, non credo sia rimasto molto.» «Già.» Rasti a noi, con lo sguardo vuoto. «Avevo immaginato che si trattasse di quello. Qualche giorno dopo il disastro, io e alcuni degli altri abbiamo iniziato a camminare per cercare aiuto. Beh, la polvere era molto più fitta e il vento più forte allora. Siamo riusciti a percorrere circa quindici metri prima di essere costretti a tornare indietro. E così ci siamo seduti per aspettare. Ma la tempesta non si è fermata. E nessuno è arrivato. Guardò una finestra. Nicky Rinaldi, il domatore di leoni, e Stan Tembrello hanno deciso di seguire i binari. Questo è successo un mese fa. Leroy non stava bene, e così sono rimasto qui con lui e Roger. Eravamo tutti pagliacci, vedete? I tre moschettieri. Ah, che spettacolo che facevamo. Li facevamo davvero ridere.» D'un tratto gli spuntarono le lacrime e passò qualche istante prima che riuscisse di nuovo a parlare. «Comunque», disse finalmente, «io e gli altri che restavano abbiamo iniziato a scavare tombe. L'incidente ha ucciso sul colpo un mucchio di gente. E c'erano animali morti ovunque. C'era un elefante morto sui binari più avanti, ma è tutto secco adesso. Dio mio, non puoi immaginare la puzza che emanava. Ma chi diavolo ha la forza per scavare una tomba per un elefante?» «Abbiamo un vero e proprio cimitero circense, non lontano da qui.» Annui vagamente verso destra. «Il terreno è più soffice una volta che ci si allontana dai binari. Sono riuscito a trovare una parte della mia attrezzatura e mi sono trasferito qua dentro con Leroy, Roger e pochi altri. Ho trovato la mia scatola dei trucchi.» Toccò la scatola di legno con incise le sue lucertole striscianti. «Ho trovato anche la mia giacca magica.» Un dito indicò l'appendiabiti con i vestiti. «Io non sono stato ferito troppo gravemente. Solo lividi su lividi e questo.» Sollevò quel grosso labbro superiore per mostrare il buco dove gli era saltato un dente frontale. «Ma ero a posto. Poi tutti hanno iniziato a morire.» Fissò la candela. «Era una cosa incredibile», disse. «Gente che un giorno stava bene, il giorno dopo era morta. Una notte i suoi occhi si velarono come ghiaccio su uno stagno e i ricordi l'afferrarono di nuovo. Una notte stavamo tutti dormendo e io mi sono svegliato freddo. La stufa era accesa e il vagone era caldo, ma io stavo tremando e, giuro su Dio, sapevo che c'era l'ombra della morte qui dentro, muovendosi da persona a persona e decidendo chi fosse il prossimo da prendere. Credo che qualunque cosa fosse mi sia passata abbastanza vicina da gelarmi le ossa.» E poi ha proseguito. E quando è arrivata la luce del giorno, Roger era morto con gli occhi aperti. E appena il giorno prima stava raccontando barzellette. «E sapete cosa dice quel pazzo di Leroy? Dice Rusty, disegniamo una faccia felice su quel figlio di puttana prima di seppellirlo. E così l'abbiamo truccato. Ma non è stata una cosa irrispettosa, oh no.» Rusty scosse la testa. «Volevamo bene a quel vecchio brontolone. Gli abbiamo solo dato la faccia con cui era più a su agio. Poi io e Eddie Rosco lo abbiamo portato fuori e lo abbiamo sepolto. Mi sembra di aver aiutato a scavare cento tombe in una settimana, finché non siamo rimasti solo io e l'eroe.» Fece un breve sorriso, guardando nell'angolo alle spalle di Josh e Swan. «Hai un bell'aspetto, vecchio mio. Ti amine. Pensavo che sarei stato io il primo ad andarmene.» «Non c'è nessuno a parte te?» chiese Swan. «Solo io. Sono l'ultimo membro del circo Raidel.» Guardò Josh. «Chi ha vinto?» «Chi ha vinto cosa?» «La guerra. Chi ha vinto la guerra? Noi o i russi?» «Non lo so. Se la Russia assomiglia a quello che io e Swan abbiamo visto, che Dio aiuti anche quella gente.» «Beh, devi combattere il fuoco con il fuoco», disse Rusty. «È una cosa che mi diceva sempre mia mamma. Combatti il fuoco con il fuoco. Comunque, forse c'è una cosa buona in tutto questo. Forse tutti hanno lanciato le loro bombe e i loro missili e adesso non ce ne sono più. I fuochi si sono affrontati. E il vecchio mondo è ancora qui, non è così?» «Sì», concordò Josh. «Il mondo è ancora qui. E anche noi.» «Immagino che il mondo sia un po' cambiato comunque. Voglio dire, se ovunque è come qua, credo che i lussi della vita ne soffriranno un po'. «Dimentica i lussi», gli disse Josh. «Questo vagone e quella stufa sono lussi, amico mio.» Rusty sorrise, mostrando il buco dove c'era stato il suo dente. «Sì, ha un vero palazzo qui, no?» Guardò Swan per qualche istante, poi si alzò, andò all'appendiabiti e prese una giacca di velluto dal suo gancio. Le fece un cenno, si tolse la giacca di jeans e indossò quella che aveva preso. Nel taschino c'era un fazzoletto bianco. «Ti dirò cos'altro c'è qua ancora. Qualcosa che non cambierà mai, signorina. La magia. Tu credi nella magia, tesoro?» «Sì», disse lei. «Bene.» Tirò fuori il fazzoletto bianco e d'un tratto aveva in mano un mazzetto di fiori di carta dai colori vivaci. Le offrì a Swan. «Sembre una signora che potrebbe apprezzare dei miei fiori. Ovviamente faremmo meglio ad annaffiarle anche. Se i fiori non ricevono l'acqua potrebbero appassire.» Tese in avanti l'altra mano, fece un movimento con il polso ed un tratto aveva in mano una piccola brocca rossa. La inclinò sui fiori, ma al posto dell'acqua ne uscì un rivoletto di polvere gialla che cadde a terra. «Oh», fece Rasti fingendo delusione. Poi i suoi occhi si illuminarono. «Eh, forse questa è polvere magica, signorina. Certo, la polvere magica terrà in vita i fiori proprio come l'acqua. Che ne pensi?» Anche se il cadavere nell'angolo le faceva venire i brividi, Swan dovette sorridere. «Certo», disse. «Scommetto che lo farà anche la polvere.» Rasti agitò la sua mano sottile in aria davanti al volto di Swan. Improvvisamente la bambina vide apparire una pallina rossa tra il mignolo e l'anulare e poi un'altra pallina sembrò crescere tra il pollice e l'indice. L'uomo mise una pallina in ciascuna mano e iniziò a lanciarle in aria, passandole da una mano all'altra. «Credo che ci manchi qualcosa, vero?» le chiese e quando le palline erano in aria allungò la mano destra verso l'orecchio di Swan. Lei sentì un leggero rumore e la mano di Rasti tornò indietro con una terza pallina rossa. Le fece roteare tutte e tre. «Ecco qua! Sapevo che l'avrei trovata da qualche parte.» Lei si toccò l'orecchio. «Come hai fatto?» «Magia», spiegò lui. Si infilò una pallina in bocca, poi la seconda e poi la terza. La sua mano vuota accarezzò l'aria e Swan vide la gola di Rasti muoversi quando ingoiò le palline. «Mmm, buonissime!» disse lui. «Vuoi assaggiarle?» le porse il palmo, su cui c'erano le tre palline rosse. «Ma ti ho visto mangiarle!» esclamò Swan. «Sì, l'ho fatto! Queste sono altre tre! Vedi, è di questo che sono vissuto. Cibo per cani e palline magiche.» Il suo sorriso si incrinò e iniziò a svanire. I suoi occhi scattarono verso il cadavere e rimise in tasca le palline. «Bene», disse. «Immagino che per oggi la magia sia sufficiente.» «Sei molto bravo», disse Josh. «Quindi sei un pagliaccio, un mago e un giocoliere. Cos'altro sai fare?» «Un tempo cavalcavo i cavalli selvaggi nei rodei.» Si tolse la giacca di velluto e la appese come se stesse mettendo a letto un vecchio amico. «Ho fatto il pagliaccio nei rodei. Ho cucinato piatti veloci durante un carnevale, una volta ho lavorato in un allevamento di bestiama. Suppongo di essere un uomo di tutti i mestieri ma maestro in nessuno. Ma ho sempre amato la magia. Un mago ungherese di nome Fabrioso mi ha preso sotto la sua ala quando avevo sedici anni e mi ha insegnato l'arte nel periodo in cui facevo l'imbonitore per le giostre. Diceva che avevo delle mani che potevano rubare portafogli o estrarre sogni dall'aria. La luce danzò nei suoi occhi. «Quel Fabrioso era un'altra cosa, ti dirò. Lui parlava con gli spiriti e poi star certo che gli rispondevano e facevano anche quello che lui diceva loro di fare. Anche questa è magica.» Suon toccò la scatola di legno coperta di lucertole. «Quella era la scatola dei trucchi di Fabrioso. Io ci tengo i miei trucchi e altra roba adesso. Fabrioso l'ha avuta da un mago di Istanbul. Sai dov'è? È in Turchia. E quel mago l'aveva avuta da un altro mago cinese, per cui credo che abbia una specie di storia.» «Come Crybaby», disse Suon e sollevò il bastone da rabdomante. «Crybaby? È così che lo chiami?» «Una donna.» Gio scesitò. La perdita di Liona Skelton era ancora troppo dura. «Una donna molto speciale», lo ha dato a Suon. «Fabrioso ti ha dato anche la giacca magica?» chiese Suon. «No, quella l'ho comprata in un negozio di magia a Oklahoma City. Ma mi ha dato la scatola. È un'altra cosa.» Aprì la serratura della scatola incisa e ne sollevò il coperchio. All'interno c'erano vasetti, gessetti e stracci macchiati di mille colori. Scavò con la mano vicino al fondo. «Fabrioso ha detto che questo andava insieme alla scatola, quindi era giusto che andasse a finire dove andava a finire la scatola. Eccolo qua.» Tirò fuori la mano. Era un semplice specchio ovale, con una cornice nera e un manico nero graffiato. C'era solo una decorazione. Nel punto in cui il manico si collegava allo specchio, c'erano due piccole facce simili a maschere, che guardavano in direzioni opposte. Il vetro era di un colore fumoso, graffiato e macchiato. Fabrioso lo usava per mettersi il trucco di scena. C'era una nota di soggezione nella voce di Rasti. Diceva che mostrava un'immagine più vera di qualsiasi altro specchio in cui avesse mai guardato. Ma io non lo uso, perché il vetro è diventato troppo opaco. Lo porse a suon e lei lo prese dal manico. Lo specchio era leggero come un biscotto. «Fabrioso aveva novant'anni quando è morto e mi ha detto che ha ricevuto lo specchio quando ne aveva diciassette. Scommetto che ha almeno duecento anni.» «Wow.» Una cosa così vecchia andava oltre la comprensione di suon. Guardò nel vetro, ma riusciva a vederci il suo volto solo vagamente, come attraverso un velo di nebbia. Anche così i segni delle ustioni la infastidivano ancora, e c'era così tanta polvere sulla sua faccia che pensò di assomigliare anche lei a un pagliaccio. Non si sarebbe mai nemmeno abituata a non avere capelli. Guardò più da vicino. Sulla sua fronte c'erano altre due di quelle strane cose scure simili a verruche che aveva notato a casa di Liona. Erano sempre state lì, o erano appena spuntate? «Immagino che Fabrioso fosse piuttosto vanesio, a miserasti. Lo sorprendevo continuamente a guardare in quello specchio, solo che di solito lo teneva alla distanza di un braccio, così.» Allungò la mano davanti alla faccia, come se il suo palmo fosse un cannocchiale. Suon allungò il braccio. Lo specchio era girato verso il lato sinistro della sua faccia e verso la spalla sinistra. Adesso la sua testa era solo un contorno. «Non mi vedo come…» Ci fu un movimento nel vetro, un movimento rapido, e non uno fatto da lei. Dietro la sua spalla sinistra si sollevò come una luna lebrosa, una faccia con un occhio al centro della fronte, una bocca spalancata dove avrebbe dovuto trovarsi il naso e la pelle gialla come pergamena secca. Suon lasciò cadere lo specchio. Quello tintinnò sul pavimento e lei si voltò di scatto sulla sinistra. Non c'era nessuno lì, naturalmente. «Suon!» Rusty si era alzato in piedi. «Che succede?» Josh appoggiò la candela con il piattino e mise una mano sulla spalla della bambina. Lei si strinse al suo fianco e lui riuscì a percepire il battito accelerato di Suon. Qualcosa l'aveva spaventata a morte? Si chinò e raccolse lo specchio, aspettandosi di vederlo in pezzi. Ma era ancora integro. Guardandovi dentro, fu disgustato dal proprio volto, ma si soffermò abbastanza a lungo per vedere che aveva quattro nuove verruche sul mento. Restituì lo specchio a rasti. «È un bene che non si sia rotto. Immagino che sarebbero stati sette anni di sfortuna». «Ho visto Fabrioso lasciarlo cadere un centinaio di volte. Una volta l'ha gettato a terra con tutta la forza che aveva su un pavimento di cemento. Non si è nemmeno scheggiato. Mi diceva anche che questo specchio è magico, solo che non lo capiva del tutto, per cui non mi ha mai detto perché pensava che fosse magico». Rusty si strinse nelle spalle. «A me sembra solo un vecchio specchio opaco, ma dato che formava una coppia con la scatola ho deciso di tenerlo». Rivolse la sua attenzione a Swan, che fissava ancora nervosamente lo specchio. «Non preoccuparti. Come ho detto non si romperà. Diavolo, è più resistente della plastica». Appoggiò lo specchio sul piano del tavolo. «Stai bene», le chiese Josh. Swan annui. Qualsiasi mostro avesse visto alle sue spalle in quello specchio. Non desiderava vederlo mai più. «Di chi era quella faccia che aveva visto nelle profondità del vetro?» «Sì», rispose, parlando come se ne fosse convinta. Rusty accese un fuoco nella stufa e poi Josh lo aiutò a portare il cadavere al cimitero. Killer li seguì abbaiando. E mentre loro erano via, Swan si avvicinò di nuovo allo specchio. La chiamava, proprio come l'avevano chiamata le carte dei tarocchi a casa di Liona. Lo sollevò lentamente e, tenendolo con il braccio teso, lo inclinò verso la sua spalla sinistra, come aveva fatto prima. Ma non c'era nessuna faccia mostruosa. Non c'era nulla. Suon girò lo specchio verso destra. «Niente. Di nuovo». Liona le mancava moltissimo e pensò alla carta del diavolo del mazzo di tarocchi. Quella faccia, con l'orribile occhio in mezzo alla fronte e la bocca, che sembrava un corridoio verso l'inferno, le aveva ricordato la figura di quella carta. «Oh, Liona», sussurrò. «Perché ci hai dovuti lasciare?» Ci fu un rapido bagliore rosso nello specchio. Appena un lampo e poi era sparito. Swan si guardò sopra la spalla. dietro di lei c'era la stufa e nella grata crepitavano fiamme rosse. Guardò di nuovo nello specchio. Era buio e si rese conto che non era affatto puntato verso la stufa. Un puntino rosso come un rubino tremolò e iniziò a crescere. Altri colori balenavano come lampi lontani. Verde e si fusero in un piccolo anello di luce pulsante che all'inizio Swan pensò galleggiasse in aria. Ma l'istante dopo pensò di riuscire a distinguere una figura vaga e indistinta che teneva quell'anello in mano. Ma non fu in grado di dire se fosse un uomo o una donna. Quasi si voltò indietro, ma non lo fece perché sapeva che alle sue spalle non c'era nulla tranne una parete. No, questa visione era solo nello specchio magico. Ma che cosa voleva dire? Sembrava che la figura stesse camminando, stancamente ma con determinazione, come se chiunque fosse sapesse di avere un lungo viaggio da completare. Swan percepì che la figura era molto lontana, forse nemmeno nello stesso stato in cui si trovava lei. Ma per un secondo credette di individuare i lineamenti del volto e poteva essere stato il volto dai lineamenti duri di una donna. Poi tornò a essere nebuloso e Swan non fu più in grado di vederlo. Sembrava che la figura stesse cercando qualcosa, portando un anello più luminoso delle luci delle lucciole. Alle sue spalle potevano esserci state anche altre figure che cercavano qualcosa, ma di nuovo Swan non riuscì a isolarle del tutto dalla nebbia. La prima figura e il cerchio dai molti colori iniziarono a svanire e Swan osservò fino a quando non si fu ridotto a un puntino luminoso come la fiammella di una candela. Poi si spense come una stella cadente e sparì. «Torna indietro», sussurrò. «Per favore, torna indietro». Ma la visione non tornò. Swan diresse lo specchio alla sua sinistra. E dietro a quella spalla si alzò un cavallo scheletrico e su di esso c'era un cavaliere fatto di ossa che gocciolava sangue e nelle sue braccia scheletriche. C'era una falce che sollevò per un fendente fatale. Swan si voltò. Era sola. Completamente sola. Stava tremando e appoggiò il lato riflettente dello specchio sulla scrivania. Aveva visto abbastanza magia per un bel po' di tempo. Ricordò che Liona aveva detto «Tutto è cambiato adesso. Tutto quello che c'era è scomparso. Forse tutto il mondo è proprio come Sullivan. Spazzato via, cambiato, in procinto di trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che era prima». Aveva bisogno di Liona perché l'aiutasse a comprendere questi nuovi pezzi del puzzle. Ma Liona non c'era più. Adesso c'erano solo lei e Josh e anche Rusty Weathers, se avesse deciso di andare con loro, ovunque fossero diretti. Si chiese cosa significasse la visione nello specchio. Erano cose che sarebbero accadute o che sarebbero potute accadere. Decise di tenere le visioni per se stessa fino a quando non ci avesse riflettuto ancora un po'. Non conosceva Rusty abbastanza bene ancora, anche se sembrava a posto. Quando Josh e Rusty tornarono, l'omone chiese all'altro se potevano restare per qualche giorno, condividendo l'acqua e il cibo per cani. Suon arricciò il naso, ma il suo stomaco bruntolò. «Dove pensate di andare voi due?» chiese Rusty. «Ancora non lo so. Abbiamo un cavallo con la schiena forte e il dannato bastardo più coraggioso che tu abbia mai visto. E immagino che continueremo a camminare fino a quando non troveremo un posto in cui fermarci». «Potrebbe volerci molto tempo. Non sapete cosa c'è là fuori. Io so cosa c'è dietro di noi. Quello che c'è davanti non può essere molto peggiore». «Lo speri?» disse Rusty. «Sì». Josh lanciò uno sguardo a suon. «Proteggi la bambina», pensò. «Avrebbe fatto del suo meglio, non solo perché ubbidiva a quell'ordine, ma perché le voleva bene. E avrebbe fatto ogni cosa in suo potere per assicurarsi che sopravvivesse a qualsiasi cosa li aspettasse. E questo, si rese conto, avrebbe potuto essere un viaggio attraverso lo stesso inferno». «Soppongo che mi unirò a voi, se non vi dispiace», decise Rusty. «Tutto quello che ho sono i vestiti che indosso. La mia giacca magica, la scatola e lo specchio. Non credo che ci sia un granché di futuro qua, che dici». «Non è granché», concordò Josh. Rusty guardò fuori da una finestra opaca. «Tio mio, spero di vivere abbastanza per rivedere il sole e salire in cielo, e poi mi ucciderò di sigarette». Josh dovette ridere, e anche Rusty fece una risatina. Suon sorrise, ma il suo sorriso svanì presto. Si sentiva lontanissima dalla bambina che era entrata con sua madre nel supermercato di Popo Briggs. Avrebbe compiuto dieci anni il 3 novembre, ma in quel momento si sentiva davvero vecchia, almeno di trent'anni. «E non so nulla di niente», pensò. Prima di quel brutto giorno, il suo mondo era stato ristretto a motel, roulotte e piccole case di blocchi di calcestruzzo. «Com'era stato il resto del mondo?», si chiese. «E adesso che il brutto giorno era arrivato e passato, che cosa restava?» Liona aveva detto «il mondo continuerà a girare, oh Dio ha dato una bella spinta a questo mondo, davvero, e ha anche messo menti e anime molto forti in un sacco di persone, persone come te, magari». Pensò a Popo Briggs che si era alzato a sedere e aveva parlato. Quella era una cosa a cui non aveva voluto pensare troppo. Adesso voleva conoscerne il significato. Lei non si sentiva affatto speciale. Si sentiva solo stanca, malandata e impolverata. E quando lasciava che i suoi pensieri vagassero verso sua mamma, tutto quello che voleva fare era spezzarsi e piangere. Ma non lo faceva. Swan voleva saperne di più su ogni cosa. Voleva imparare a leggere meglio, se avessero trovato dei libri. Voleva fare domande, imparare ad ascoltare, voleva imparare a pensare e a ragionare sulle cose. Ma voleva non diventare mai del tutto adulta, perché aveva paura del mondo dei grandi. Era un bullo con la pancia grassa e una bocca meschina che calpestava i giardini prima che avessero una possibilità di crescere. No, decise Swan. Voglio essere quella che sono e nessuno mi calpesterà. Ma se ci provano, è probabile che loro stessi ricevano una marea di pedate. Rasti aveva osservato la bambina mentre preparava la loro cena di cibo per cani. Vide che era profondamente concentrata. Un penny per i tuoi pensieri, disse, e fece schioccare le dita della mano destra, facendo comparire tra il pollice e l'indice la moneta che teneva in mano già da prima. Lo lanciò alla bambina e Swan l'afferrò. Vide che non era un penny. Era un gettone di bronzo, grande all'incirca quanto un quarto di dollaro, e c'era scritto Circo Raidel, sopra la faccia ridente di un pagliaccio. Suon esitò, guardò Josh e poi di nuovo Rasti. Decise di dire, sto pensando a domani. E Josh si sedette con la schiena contro la parete, ascoltando il fischio acuto del vento e sperando che in qualche modo sarebbero sopravvissuti alla terribile serie di Tomani, che si estendeva davanti a loro.